buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video ieri sono andato a vedere al cinema il film Sully che parla della vicenda di Sullenberger un pilota che ha condotto un ammaraggio nel fiume Hudson New York il 15 gennaio del 2009 e sono qui oggi per farvi una recensione per darvi il mio parere in merito a questo film allora innanzitutto la regia di Clint Eastwood e l'attore protagonista è Tom Hanks quindi sono due nomi che io apprezzo e ammiro tantissimo e infatti il risultato non ha tardato a farsi vedere il film mi è piaciuto tantissimo veramente molto molto bello ve lo consiglio non mi hanno pagato per dire questo ve lo posso garantire ve lo consiglio vivamente un film che anche chi non è appassionato di aerei potrà gradire perché alla fine mescola un po di tecnica ma proprio poca e anche una storia comunque una commedia tutto sommato e anche un po di azione quindi è un film che si si fa insomma si fa vedere con una certa semplicità è molto bello soprattutto perché investiga alcune delle dinamiche che sono sono realmente avvenute perché questa è una storia vera e quindi è tratto da una storia vera ed è riprodotto molto fedelmente io non conosco bene l'aereo in questione però devo dire che le procedure che sono state effettuate che si mostrano nel film sono verosimili sono molto molto vere e sono anche molto ben rese quindi anche a livello fotografico vi è una insomma un'abilità non da poco anche a livello di effetti speciali molto molto bello vi consiglio di vederlo perché alla fine c'è anche una morale importante all'interno di questo film io non voglio spoilerarvi nulla quindi vi consiglio di di vederlo semplicemente andate al cinema e visionatelo una cosa che ho gradito molto del film è che racconta proprio come se si stesse vivendo la giornata del pilota da quando l'aereo parte a quando avviene questo ammaraggio a tutto quello che succede dopo durante le indagini le simulazioni quindi c'è molta fedeltà in tutto ciò ed è insomma lo spettatore è coinvolto quindi è molto ben fatto e una cosa che mi fa piacere insomma aver trovato in un film è anche un suggerimento a quelli che sono i passeggeri infatti vedrete persone che si lanciano nell'acqua laddove è chiaro anche lo spettatore anche a chi non sa nulla di procedure di emergenza che quella è una scelta sbagliata quindi può rappresentare anche un monito a tutti a tutti quanti anche i passeggeri a quelli che prendono frequentemente l'aereo perché in effetti si vede quello che succede realmente durante un'emergenza e come le persone letteralmente vengano colte dal dal panico più totale e come invece un esodo ordinato faccia poi sostanzialmente la differenza quindi il film consigliatissimo veramente molto bello ancora una volta lo dico andatelo a vedere ve lo consiglio su uno schermo grande perché merita è molto bello visivamente e ricordate anche una frase del film meglio un ritardo che un disastro questa frase veramente forse racchiude un po il senso di tutto quindi io spero vi vi piace il film se vi piace poi se siete già andati a vederlo o se avete intenzione di vederlo fatemelo sapere nei commenti e ovviamente fatemi sapere anche la vostra opinione perché poi ognuno di noi ha delle opinioni diverse nei confronti di queste di queste tematiche un po particolari quindi questo è tutto vi ringrazio come sempre per l'attenzione ricordate di passare dai miei social iscrivervi e condividere il video come sempre ci vediamo a un prossimo video